ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video sonoff che presenta due rilevatori che sono lo zigbee human present sensor che si chiama snb06p e poi lo zigbee motion sensor che si chiama snzb 0 3 p sono due rivelatori dove in realtà uno è un po più voluto è un radar ma va alimentato e uno è un semplice sensore di movimento che però è a batterie vediamo se effettivamente hanno delle caratteristiche delle differenze tali da farvi propendere per la scelta verso uno piuttosto che verso l'altro parliamo comunque di due dispositivi zigbee quindi funzionano nell'app we link integrabili eventualmente i norma assistant ma hanno bisogno di un hub zigbee io uso il bridge della sonoff lo scatolotto quello bianco che uso sempre va benissimo ma potreste usarlo anche con altri bridge zigbee passiamo allo spacchettamento e vediamo un attimino come sono fatti allora ecco i due oggetti che voglio mettere a confronto oggi per spiegare anche se possibile le differenze allora questo è il nuovo zigbee human presence sensor è un radar sostanzialmente quindi una tecnologia più avanzata con la funzione di detenzione di presenza di figure umane ma anche sensore di luce poi abbinabile a tutte le varie scene che si possono attivare all'interno dell'applicazione e zigbee scatola arancione si chiama snb 0 6 p e per quanto riguarda l'imballo niente di particolare sicuramente l'avrete già visto come dotazione abbiamo appunto il sensore che comunque è molto molto piccolo e lui si alimenta tramite type c quindi non ha una batteria e questo è un peccato però comunque connessione tra virgolette moderna si tiene magneticamente su questa base che può essere abitata con due viti che danno anche in dotazione o può essere semplicemente appiccicata con un biadesivo e attenzione è questa la parte magnetica qui non c'è nessun magnete quindi non può essere messo da solo parlavamo prima dell'alimentazione abbiamo in dotazione questo cavo type c type a lungo due metri e questo è il sensore di presenza di rilevamento di figure umane poi c'era il zigbee motion sensor che è un'altra cosa dispositivo che si chiama snb 03 p che non è molto diverso dal cugino ma questo è un motion sensor quindi fatto più o meno allo stesso modo stesso sistema base biadesivo magnete su questa parte la differenza è che questo è a batterie ma non è un radar sempre zigbee pulsante che c'è qua pulsante che c'è qua vedete che il case è praticamente lo stesso cambia la parte della sensoristica cambia perché qui abbiamo un'alimentazione qui non ce l'abbiamo quindi come si alimenta lui si apre vedete qui c'è la parte di ferro che si appiccica qui dentro abbiamo una batteria a litio che si chiama cr 24 77 da 3 volt la inseriamo rimettiamo il coperchio chiudiamo montiamo e il nostro sensore di movimento è alimentato già che ci siamo vediamo se riusciamo ad aprire anche questo no non è fatto per essere aperto entriamo direttamente in ewe link dentro un nostro zigbee bridge p ad esempio teniamo premuto il pulsante di reset proviamo ad aggiungere un dispositivo parte la ricerca viene trovato un dispositivo anche già dall'assistente di amazon snb03p che è lui sensore di movimento torniamo indietro lo troviamo qui come dispositivo vedete che c'è un indicatore che dice se sta rilevando il movimento abbiamo la possibilità di avere una cronologia entriamo un attimo nelle impostazioni è già aggiornato posizione condividi notifiche durata del rilevamento ecco questo è il tempo che possiamo impostare tra un rilevamento e l'altro per quanto riguarda le attivazioni gli cambio nome giusto per distinguerli lui lo chiamiamo motion sensor ok usciamo e adesso andiamo aggiungere invece lo human presence sensor che va però alimentato se accende il pulsante dovrebbe essere già in accoppiamento entriamo di nuovo nel nostro zigbee bridge p aggiungiamo un dispositivo un dispositivo trovato anche già dall'assistente di amazon snb06p torniamo indietro lo troviamo sempre nella home vedete che cambia già anche nella home quello che visualizza qua dice che è stato rilevato movimento qua dice che ci sono delle persone presenti entriamo dentro tra l'altro è da aggiornare gli cambiamo intanto nome lo chiamiamo human presence sensor salviamo qui abbiamo già delle opzioni in più ma prima facciamo l'aggiornamento così magari ne escono altre ok intanto si è aggiornato la 105 diamo un'occhiata anche quale impostazioni abbiamo la possibilità oltre alla condivisione di regolare la sensibilità quindi bassa medio alta lasciamo la media la durata del rilevamento possiamo ricevere delle notifiche null'altro in questo momento dice che ci sono delle persone presenti e anche qua abbiamo una cronologia quindi simili ma diversi prima differenza sostanziale è che uno va alimentato mentre uno è a batteria non conosco bene l'autonomia di quello batteria però avendo una batteria bella cicciotta ed essendo zigbee verosimilmente avrà una durata abbastanza lunga diciamo che l'altro sicuramente non avrà mai problema della batteria però c'è il problema di far passare il cavo e di alimentarlo adesso farei un po di test lo monto prima qua in taverna per vedere come rilevano se sono sensibili più o meno allo stesso modo quando arrivo ok ora andiamo giù in taverna dove ci sono i due sensori montati avete visto a fianco vediamo un po con che velocità arriva al cambio di stato nell'app e anche la notifica e adesso sono a filo rispetto a dove sono montati i due sensori ok avete visto movimento rilevato personale presente se tiro giù le notifiche arriva la notifica human presence sensor persona presente e motion sensor detect motion vedete che loro sono lassù stanza al buio e hanno rilevato nello stesso esatto momento adesso invece lo piazzo in casa perché sono curioso di vedere se il radar è più preciso e farò una prova direttamente con i cani allora vi faccio vedere questa differenza vedete che adesso mi segnala personale presente movimento rilevato perché è in casa ho puntato i sensori sul soggiorno dove ci sono i cani adesso c'è un cane che si muove e infatti mi segnala personale presente e movimento rilevato vedete il cane continua a muoversi continua a segnarmi personale presente e attenzione perché se vado nel sensore human presence sensor come sensibilità ho messo bassa quindi con sensibilità bassa mi rileva un cagnolino di due chili e mezzo che si muove vedete adesso aspettiamo un minuto e la situazione è questa abbiamo sempre personale presente il cane tra l'altro uno dorme da sopra e l'altra che si muoveva nella cuccia che dorme ma comunque lui rileva una presenza ok è molto preciso perché la rileva però human non proprio diciamo appropriato come termine perché ripeto un cane molto piccolo che tra l'altro è fermo continua a darmelo come persona presente e siamo a sensibilità bassa ovviamente invece il motion sensor non rileva nessun movimento da questo punto di vista diciamo che salvo futuri aggiornamenti si sta comportando teoricamente meglio il motion sensor bene qualche test l'abbiamo fatto abbiamo capito che cambia poco e niente se non che il rilevatore di presenza umana vi dà un rilevamento continuo della presenza della persona l'altro è un sensore che sente solo il movimento ok quindi una leggera differenza però alla fine otteniamo diciamo lo stesso risultato anzi il rilevatore di movimenti ad esempio i cagnolini se sono fermi non me li percepisce mentre il radar percepisce sempre una figura umana anche se un cane così però percepisce che c'è qualcosa di vivo adesso già che ci siamo diamo un'occhiata tutte le possibilità di scenari che possiamo creare con questi due dispositivi entriamo quindi nella nostra app e diamo un'occhiata vedete qui abbiamo human present sensor che in questo momento rileva perché c'è mia moglie sopra stessa cosa per il motion sensor proviamo a creare una scena dove nella costruzione il fattore determinante quindi se uno di questi due sensori rileva qualcosa facciamo qualcos'altro dispositivo intelligente human present sensor quindi radar ci fa scegliere con nessuno presente con persona presente con persona presente e luce accesa qua secondo me c'è un bug perché mi dà la stessa cosa sulle due opzioni quindi rilevamento di persona e luce ambiente accesa rilevamento persona e luce ambiente accesa credo ci sia un errore adesso lo segnalo anche l'azienda perché di fatto è un doppione quindi possiamo scegliere nessuno presente o presente con luce lo salviamo e da qua possiamo andare a comandare qualsiasi altro dispositivo che può essere una luce una valvola un relais la palla eolica il tx possiamo comandare quello che ci pare andiamo a vedere invece con l'altro dispositivo quindi se dispositivo intelligente motion sensor abbiamo nessun rilevamento movimento rilevato movimento e luce ambiente attiva e abbiamo di nuovo un errore rilevato movimento e luce ambiente attiva quindi anche qua c'è un doppione lo human present sensor esiste già in vendita sul sito eti ad costa sui 15 dollari sicuramente presto lo avremo disponibile anche dai nostri amici di expert for house lo zigbee motion sensor di fatto non esiste ancora è un anteprima ve l'ho fatto vedere però sappiate che sta per uscire quindi se preferite questo rispetto alla versione radar però alimentata aspettate che sia in commercio un video veloce per farvi vedere due prodotti interessanti che possono aprire un mare di automazioni e scenari che potete integrare a casa vostra in ufficio in azienda dove vi pare se il video vi è piaciuto un bel like soprattutto giuro non costa nulla iscrivetevi al canale così da supportarmi in tutti i miei progetti e portare sempre più prodotti più contenuti nuovi al prossimo video prossima diretta o se passate il negozio da torino facciamo due parole grazie da massidattoli grazie a tutti